Grazie a tutti. La settimana scorsa ho ricevuto molte persone che hanno manifestato il loro sconforto per quanto sta accadendo ai loro capi di questi anni, sbarananti o ferenti a morte. Ho ricevuto dagli stessi allevatori dei video in cui si vengono dall'essere uno, due e due, e poco. Video che non va ritenuto per questo motivo di pubblicare sui miei dati di social. E' veramente incredibile che sono andato a attuare a uno di questi allevatori e purtroppo la conferma è stata a mezza. E' così da vero e' accettabile che questa situazione dovrebbe essere gestita con una cura testa per garantire un sano equilibrio tra ambiente e uomo passi dal total indifferenza dei rappresentanti di questo governo. E' un po' di una ruota che è gestione ai grandi dettagli e di competenza del ministero del governo. Perciò invito il ministro Costa, ministro di competenza, e il ministro di Piazza, ministro dell'Unesi, a incontrare le persone più importanti che comprendono la valutazione della cosa. C'è un esterno economico per considerare che è quello che è visto.